Tanti anni il Figliene è di nuovo in una categoria nazionale, questo dopo tanti anni di sacrifici però ci siamo arrivati alla grande, dalla porta principale, siamo contentissimi. La città ha risposto in modo opportuno e quindi siamo contenti. Il logo è un nuovo inizio, abbiamo studiato i vecchi luoghi e abbiamo scelto insieme allo studio Torelli che ha fatto questo grande lavoro di progettazione di questo logo che comunque sia rispecchia la vecchia grafica e il leone rampante con la bandiera e il Giglio Ferentino è molto stilizzato, molto diretto, speriamo fortemente che sia di buon auspicio. Intanto siamo partiti dallo zoccolo duro dello scorso anno confermando Mr. Tronconi e tutto il suo staff e poi da lì ci siamo attrezzati sulla base di quelle che sono le nostre possibilità cercando profili sul territorio che però abbiano maturato nel corso degli anni un certo percorso anche un campionato di Serie D oppure che possano aver rappresentato l'eccellenza dell'eccellenza. Quindi diciamo scommettiamo su questo parco di giocatori che possiamo ritenere valido. No, no, la squadra sono soddisfatto, il direttore Agatenezi ha lavorato molto bene in questo mese quindi al momento la rosa è completa, poi sarà il campo come sempre che darà il suo giudizio. Squadra quasi completa, tantissimi ragazzi giovani e questo mi fa un grande piacere è quello sul quale il Figline ha improntato questa stagione. Ci sono tantissimi ragazzi giovani, quasi tutti toscani, provenienti anche da società importanti. Abbiamo stretto accordo, accordi con società professionistiche, quindi ci hanno dato fiducia. bella squadra, è il gruppo vecchio, c'è un bello zoccolo di giocatori che lo scorso anno hanno vinto il campionato. Ripartiamo da quelli integrando con questi ragazzi e speriamo di fare qualcosa di buono, di importante, di serio.